500 arcieri di ogni età sono arrivati in città da tutta Italia per prendere parte al campionato italiano indoor FIARC di tiro con l'arco, per la prima volta ospitato ad Arezzo nel padiglione Chimera all'interno dell'Arezzo Fiere Congressi. Il nostro tiro con l'arco fortunatamente gode ottimo a salute, perché la risposta degli arcieri anche a questo campionato indoor è stata eccellente. Ci sono 500 arcieri e arciere che gareggeranno nei prossimi giorni e quindi siamo esattamente un pochino sopra la media degli anni precedenti, che si fermava il numero dei partecipanti intorno a 450. La manifestazione si concluderà nel giorno dell'Epifania, quando i migliori arcieri si sfideranno nelle finali. Sabato 5 gennaio, infine, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17, adulti, bambini e diversamente abili, assistiti da istruttori federali, potranno provare il tiro con l'arco in un'area appositamente attrezzata. Il tiro con l'arco è una disciplina aperta a tutte le età, dagli 8 agli 80 anni, come diciamo noi. Per questo, anzi, voglio dire che sabato sarà presente anche la scuola di tiro nazionale, che potrà far tirare le persone che vorranno provare con noi questa stupenda esperienza.